Un esposto in procura a Bologna è stato formalizzato dai legali della famiglia di Michele Merlo, il giovane artista di Rosà, morto all'ospedale Maggiore per le conseguenze di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. La denuncia formale consente di chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della Salma e delle cartelle cliniche. La famiglia vuole che sia fatta luce su eventuali errori e omissioni mediche prima del ricovero all'ospedale Maggiore. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro i gnoti per reato di omicidio colposo. Il padre dello sfortunato cantante nei giorni scorsi ha raccontato che il figlio stava male da giorni ed è stato rimandato a casa con un antibiotico dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vergato sulle colline bolognesi. I sintomi che il giovane presentava, mal di testa, mal di gola, febbre e spossatezza accompagnati dai chimosi e sangue dal naso, sono stati scambiati per un malanno di stagione. Intanto è stata aperta un'indagine interna da parte dell'azienda sanitaria. I familiari del cantante ventottenne, morto a causa di un'emorragia cerebrale, hanno depositato la denuncia formale necessaria per chiedere l'avvio delle procedure di sequestro della Salma e cartelle cliniche. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro i gnoti. La data dei funerali verrà comunicata solo dopo che l'autorità giudiziaria avrà dato il via libera.